abbiamo portato tantissime novità come la nuova 308 station abbiamo portato il nuovo tonale soprattutto quindi che la novità assoluta della nostra gamma abbiamo portato altre vetture che estendono la nostra gamma gamma ormai capace diciamo di soddisfare il 100 per cento delle esigenze nostri clienti come c5x quindi l'ammiraglia del brand citroen oltre che tutta la nostra gamma elettrificata sicuramente noi abbiamo un fortissimo focus sulla transizione energetica ma per quanto riguarda il mercato delle flotte sicuramente oggi portiamo due armi fondamentali in questo in questo settore che sono il nuovo tonale appunto la nuova alfa romeo tonale ma portiamo soprattutto due vetture del segmento c quindi che l'hanno sempre fatta da padrona la nuova astra e la nuova versione station wagon della 308 progetti della mobilità elettrica a livello di prodotto diciamo che la nostra gamma riesce a soddisfare il cento per cento diciamo delle nostre esigenze dei clienti quindi sia con motorizzazione plug in hybrid sia con motorizzazione full electric sia su vetture sia su veicolo commerciale quindi diciamo siamo assolutamente coperti su tutte le esigenze dei nostri clienti ma il nostro non è soltanto un approccio di prodotto no perché abbiamo la responsabilità di guidare una transizione energetica perché sta nella nella strategia della nostra azienda contribuire in maniera attiva la decarbonizzazione al nostro pianeta quindi non agiamo soltanto con il prodotto sarebbe estremamente riduttivo ma abbiamo le soluzioni di noleggio abbiamo dei partner all'interno della nostra azienda che ci consentono di fornire nostri clienti anche tutti gli elementi ed i fattori che contribuiscono ad abbattere la resistenza al cambiamento elettrico come per esempio le infrastrutture grazie alla collaborazione con free to move e solution noi possiamo fornire soluzioni di ricarica partendo dal cliente privato fino ad arrivare diciamo alla grossa corporation con infrastrutture ad alta potenza e quant'altro grazie a tutti